festa da me stasera sarà esplosiva ciao ragazzi muoviti per dente non mi avranno vista dove sono i miei occhiali ciao qualcuno può aiutarmi cos'è quella luce è tuo questo aspetta lo prendi o cosa non posso credere di averlo tenuto in mano devo igienizzarmi le mani ora va meglio ehi ragazzi e lì facciamo una foto sorridi voi ragazzi siete i migliori che succedi un elicottero chi è grazie per il passaggio mi piace fare un ingresso trionfante è dura essere così ricchi ciao tesoro mamma come va tesoro aspetta sì ti ascolto tesoro oh certo questo è per te guarda le dimensioni di quel diamante sì lo so l'ho preso piccolo bellissimo proprio quello che volevo e dai ci sarà qualcosa che posso usare questa potrebbe tornare utile tolgo il tappo e prendo questo anello di plastica tina se lo merita non crederà ai suoi occhi e i tesoro oh che cosa romantica sono la senza tetto più felice del mondo che anello l'ho preso proprio apposta per te ok credo sia tutto pronto e giusto in tempo ecco tina ciao liam ti ho preso davvero aspetta è questo alla nostra che questa serata sia memorabile che cosa carina che sete che ho oh stai bene oddio oh wow oh carino anche questa wow guarda qua tesoro ho trovato la torta ottimo la voglio è bellissima oh è arrivata ti richiamo oh grazie pensavo ci volesse di più troppo divertente non ti gasare troppo no non ci credo tutto qui non capisco fa qualcosa tipo cosa mangiarla aspetta ci sono le istruzioni sulla scatola ok ci sono wow geniale hanno pensato a tutto ho questa tesoro porto sempre con me una pompa non si sa mai ecco qua sta funzionando non lo so cosa stiamo sbagliando aspetta si userò il phon ah tesoro non credo che faccia qualcosa beh non ho idee forse ci stiamo perdendo qualcosa ma cosa aspetta il forno stavo per dirlo io verrà da dio dai ho visto le domestiche usarlo credo di sapere come funziona dobbiamo accenderlo e ora aspettiamo guarda sta succedendo qualcosa ottimo fuochi d'artificio è normale che faccia così credo di sì questa sì che è una torta wow la adoro è pazzesca amo questo colore che c'è di meglio dell'oro a parte tanto oro deliziosa ok meglio mettersi al lavoro spero di renderle giustizia è proprio carina da cosa inizio? ah farina nella ciotola ecco e ora le uova posso iniziare a sbattere quanto è bello fare i dolci certo se ti vengono bene che disastro forse devo ammorbidire l'impasto aggiungo un goccio d'acqua spero sia meglio ma non sembra serve più farina riproviamo molto meglio sapevo avrebbe funzionato perfetto ora tiro fuori l'impasto e uso le mani gli do forma ora sì che sembra una torta e ora aggiungo le codette per dare un po' di colore che bello non assomiglia alla foto se chiudi gli occhi è simile chi prendo in giro sono pessima con i dolci ciao tesoro ehi che cosa c'è che non va la torta è orrenda oh va bene tieni prendi questo fazzoletto non ti preoccupare per la torta ci sarà un modo per sistemarla aspetta torno subito devo andare al supermercato un cliente questo è il suo giorno fortunato abbiamo le ultimissime tecnologie wow ma non mi interessa mi serve questa cosa qua sì perfetto ho proprio ciò che fa al caso tuo wow perfetto non così in fretta oh certo ho i soldi al sicuro spero sia abbastanza hai fatto un affarone la torta è tua ricordati di dirlo ai tuoi amici nelle nostre fantastiche offerte non avrò mai la torta dei miei sogni wow una torta aspetta un secondo quello è cartone sai una cosa non importa la adoro non vedo l'ora di stasera amo uscire la sera devo prepararmi inizio dagli occhi come li faccio premo il pulsante oh ok strane ma mi piacciono e ora le labbra oh sono molto carnose e ora i capelli interessante vediamo allo specchio wow pazzeschi prepara il jet stiamo arrivando aspetta Tina sei tu chi altro potrebbe essere oddio ti ti richiamo devi sederti non sta funzionando sembra che sei al circo riproviamo e oh che sollievo oh grazie tesoro stai benissimo andiamo togliamo questo carino questo outfit ecco è questo è il look giusto posso farlo oh ho finito il rossetto quando è successo deve esserne rimasto no aspetta aspettatemi ho perso l'autobus come farò adesso ehi qualcosa non va sembra un lavoro per questo simpatico vagabondo di quartiere serve un passaggio wow avanti salta su è un'auto di cartone oh sì ed è l'ultimo modello questo bolide può sprecciare tieniti forte andiamo veloci eh senti il vento tra i capelli è fantastico grazie aspetta potrei guidare io fa pure è così eccitante non ho mai guidato prima aspetta cosa vroom rallenta guarda siamo qui è tutto d'un pezzo fortunatamente grazie ancora lo apprezzo ciao accidenti è ora di andare a fare la spesa al cassonetto bip bip oh sta arrivando buongiorno signorina le apro la portiera no io non capisco non vado in macchina che ne dice di uno skateboard ma stai scherzando i roller braid guardi come sono belli ah obsoleti sono accorto di idee salvo che possiamo usare quello ottima idea wow sembra così divertente voglio provarlo guardami no 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 aspetti ci vediamo che bel modo di viaggiare beh almeno sto facendo il mio cardio quotidiano ehi sì sono proprio io mi sento così affascinante vediamo che si può fare è davvero fantastico mi stanno guardando tutti siete tutti i miei fan e vi amo tutti oh è stato così divertente sicuramente lo userò di nuovo è meglio che vada in classe ehi guarda quello è così futuristico gli alieni devono averlo lasciato e adesso è mio niente più auto di cartone accidenti mi sento così stravagante cos'è tutto questo rumore salve anche i barboni se lo possono permettere non lo userò più adesso la sistemo non che lei ne abbia bisogno dici sempre le cose giuste le mattine sono così stressanti lo dice a me ma lei si rilassi ok penso che sia tutto come vorrebbe viaggiare oggi cosa ne pensa di questa? sul serio? non credo proprio ok questa è carina oh lo so fammi fare una telefonata pronto ho bisogno del tuo aiuto si subito un elicottero oh perfetto questo è più il mio stile avrai un aumento di stipendio addio Sammi aspetti ha dimenticato lo zainetto per la scuola puoi lasciarmi laggiù dovrei cambiare banco che cos'è stato? è un rapimento salvati rilassatevi sono io mi piace fare un vero ingresso ok puoi andare meno male che mi piacciono i capelli al vento allora che mi sono persa? oh grazie incredibile ma chi si crede di essere? la lezione è finita? devo seriamente cambiare banco devo proprio oh la mia pianta sono sveglia è già ora signorina si svegli si svegli buongiorno signorina buongiorno signorina che sonno fantastico la principessa è sveglia allora iniziamo per favore eccoci qui buongiorno e vai continua a cosa ti serve un bastoncino? smettila di perdere tempo più in basso certo fammi sentire il suono della chitarra sai che è un violino vero? ah bellissimo ma che strano bravo ah quanti ricordi così suona per bene ho avuto una formazione di tipo classica e sto facendo questo e l'accompagnamento ehi ma che figo sono così belli mantieni il tempo ora rock figaro figaro pizza lasagna molto bene ragazzi voi meritate questo lavoro eccellente sono dei veri professionisti dove sono i miei soldi? e basta grazie semplicemente meraviglioso addio sono bravi le faccio il trucco signorina non si muova signorina grazie mi sento fantastica la fotocamera mi ama oh ehi guarda che mattinata ho sonno è l'ora del pisolino sogni d'oro signorina deve stare bella comoda non finisce mai è ora di alzarsi mi sento così riposata devo spegnere la sveglia e devo anche accendere le luci un altro giorno e sono ancora ricca è tutto perfetto cosa dovrei mangiare per colazione? no ma cos'altro c'è? no oh sembra buono la voglio sembra delizioso è buonissimo ne ho avuto abbastanza portalo via ok dovrei scegliere un vestito cosa dovrei indossare? non esiste uh che carino lo prendo per lei grazie ho veramente buon gusto sto troppo bene e ora per la mia routine di bellezza non mi ci vorrà molto sono bella naturale mi farò i capelli prenda questo grazie penso di essere pronta mi servono dei contanti ah ma guarda un po' amo l'odore dei soldi è ora di andare ehi bella addormentata alzati occhi ai capelli sono così affamata ti lamenti sempre per qualcosa prendi questo che cos'è? mangialo e basta devi diventare grande e forte ma sarà commestibile non rischierò amo essere una VIP che servizio signorina grazie è un onore cucinare per lei vediamo prima come va questi sono gli ingredienti più freschi non mi aspetto niente di meno questa è un'annata eccellente signorina grazie da provare sto preparando un vero banchetto e spero che le piaccia mi permetta signorina ho sentito parlare bene di questa bibita proviamola ha un profumo gradevole sulle papille gustative è molto frizzantino aspetta ha un retrogusto orribile aiuto non voglio bruciare i baffi ops come farò? no rimandala indietro questo è un disastro forse questa le piacerà di più signorina non può essere peggiore dell'ultima sono sicuro che rimarrà piacevolmente sorpresa va bene così mi piace il colore molto buona grazie ora basta mi licenzio sta bene è molto meglio che camminare siete troppo gentili niente tappeto non ci siamo proprio non osare guardarmi sento caldo un ventilatore ops vai battene altrimenti sciolgo i cani è il suo primo giorno signorina non preoccuparti me ne occuperò io cosa posso fare per lei? il menù oh sembra tutto buono croissant delizioso oh pizza ottimo ah sushi eccellente signorina wow che bello qui eh guarda qui wow odio volare sono finalmente arrivato qui pesciolini ho pensato che avrebbe funzionato presi missione compiuta che pizza gustosa sembra buona la prendo se la taglio prima è la ricetta di mia mamma l'ingrediente segreto è l'amore e tanto aglio grazie magnifico oh manca qualcosa perfetto merci sì sono così affamata non vedo l'ora di assaggiare ecco qui buono meraviglioso signora la pizza è incredibile la madre dello chef sarà felice di saperlo proviamo il croissant basta così grazie ho finito cosa c'è per dolce? dolce torno subito delizioso che buon pasto sono così contenta di averti vista oh ma hai visto quel film di ieri sera ehi ragazze imbarazzante trovo un altro tavolo sì quel posto è occupato bene forse un'altra volta non le credo ehi posso mangiare qui? guarda il cartello niente cibo bevande in aula ok vado via soli finalmente albert credo che dovrò mangiare in bagno di nuovo almeno qui è comodo oh oddio oh il mio cibo persino lui mi prende in giro questa lezione è così noiosa ehi fate attenzione faremo un test di matematica conto solo i soldi non sto dando fastidio come vuole sono impegnata spero di passare ho studiato così tanto non dovete parlare ecco i fogli di prova ecco qui io ho delle persone che mi fanno gli esami oh questo mi piace che belli i soldi oh sono passata grazie grazie a te per la nuova macchina io esco com'è difficile ma ci sono riuscita finito ne basta assolutamente la pena tu insegnante puoi prendere questo grazie che perdita di tempo ok ho valutato i vostri test sono impressionata da te essi un 8 più sì grazie un 6 come che ma per che cosa ti pago non so che dire non va affatto bene pronto? papà ho bisogno di un nuovo secchione ok metto questi nel mio armadietto devo prendere un lucchetto una stanza segreta non l'ho mai notata prima beh tanto vale dare un'occhiata in giro wow com'è spaziosa sembra accogliente finalmente ho un posto dove leggere e studiare wow non lo sapevo devo venire più spesso qui ciao Ellie oh perché di certo non parlo con Justin non ci capisco niente di tutto questo mi serve un po' di tempo per me per fortuna ho un posto esclusivo dove andare e serve una carta d'oro per entrare ora va molto meglio ah il mio posto felice è ora di divertirsi oh sembra interessante wow è così realistico che giornataccia devo rilassarmi ad ecco gli ultimi sistemi di sicurezza non si può mai essere troppo attenti oh finalmente sei qui siediti odio quando i dipendenti mi parlano voglio essere coccolata ok applicherò una maschera per il viso è la migliore di tutte è fatta d'oro la tua pelle sembrerà come nuova il che è comprensibile visto il costo ecco qui amo il mio lavoro perché sei ancora qui questa sicca è vita è ora di rilassarti non vedo l'ora di bere qualcosa attenzione non voglio rompermi un'unghia perché è così difficile la mia unghia si è staccata perché non si apre me ne occuperò più tardi non di nuovo non posso rischiare di romperne altre userò i miei denti non credo funzionerà oh so cosa fare posso usare queste pinzette devo solo oh 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 no per favore fa che non si sia rotta ottimo un'altra unghia rotta oh eccola forse potrò incollarla più tardi proverò a usare questa matita per aprirla deve funzionare giusto oh ma andiamo cosa sta succedendo volevo solo una bibita e delle belle unghie oh ehi c'è stato un piccolo problema oh non va affatto bene beh c'è di peggio oh cielo mi sento male è è orribile è stato un incidente ma come volevo solo bere dammela guarda e impara usa un elastico per capelli passalo sotto la linguetta e tira e la bibita è aperta wow almeno ho bevuto finalmente ups ecco qui grazie credo ne avevo bisogno ciao posso ordinare due caffè freddi? grazie mille il caffè sta arrivando mi servono i soldi devo pagare per tutto io va bene ma la prossima volta paghi tu dovrebbe bastare non muoverti ci sono quasi lascia che sì piano ops hai visto dove è finita la moneta potresti levarvi ah trovata no rimani lì si crede di essere furba sento che lo sta facendo apposta ah non riesco proprio ad afferrarla ma sul serio ok questa è la volta buona ma che strano ehi torna qui ah ah sei mia wow è andata veramente lontano se solo riuscissi a prenderla no mi sto stancando oh ciao qualcuno ha ordinato del caffè arrivo subito è così difficile avresti potuto dirmelo prima allora li prendete o no questi caffè li prendo io e i soldi solo questo grazie mille wow sei sei la benvenuta amo le tue unghie oh sì è quello il posto giusto wow che bel sogno ehi oh giusto ciao che tipo strano venuta nella tua nuova casa sono tutte per me wow non ho mai visto così tante torte aspetta di vedere questo stai scherzando wow tanti sta bene ho attutito la sua caduta iniziamo lo spettacolo ci siamo oh oui ho adottato una bambina puzzava tantissimo la 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 wow non male mamma da questa parte sorpresa guarda cosa ho disegnato mamma oh oui devo attirare la sua attenzione devo agire con astuzia passerotto ad aquila attivare protocollo del silenzio questo è rock tu vieni con me preso sta andando tutto secondo i piani ora tocca a me wow com'è pesante ah le mie orecchie mickey ehi non è difficile mamma sono la tua nuova band che ne dici ti prego fermati le mie orecchie sanguinano basta così mamma guarda come roccheggio ma è normale brucia cosa mickey non ti muovere torno subito aspetta adesso è ok ecco questo ti sarà utile ora sembra tutto a posto credi che sia portata ma certo perché non provi le maracas magari sono più adatte che carine iniziamo a divertirci che strazio forse non sei portata per la musica e il mio concerto è proprio stasera ciao new york gina ti adoro stasera sul palco ci sarà mia figlia suonerà per me wow come va che è successo alle maracas andrà tutto bene mi sono esercitate wow è un prodigio yeah yeah uno dei migliori concerti di sempre ciao fantastico a solo oh fermati ma cosa bu questo lo posto subito c'è qualcosa che non va mamma scusami ho fatto del mio meglio ma posso comunque rimediare guarda un po possiamo usare un telefono ottima idea ehi mi serve il tuo telefono perché fidati passamelo oddio gina sta usando il mio telefono rimettiamo lo show incareggiata forza mamma mi serve solo una chitarra yeah la 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 wow ha una voce angelica gina 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 oh sono una rock star sembra buono ho gusti costosi assaggiamo che cos'è c'è qualcosa di duro qui dentro wow guarda le dimensioni di questa pietra tesoro mi faresti l'onore ok sono così felice ho assicurati di prendere il mio lato buono ma chi voglio prendere in giro sto bene da ogni angolazione grazie adoro le mele dorate cosa ho in bocca oh oh wow amo l'oro wow questo sì che è il mio tipo di spuntino oh ehm grazie beh è cibo che cosa? immagino che dovrò pulire da questa parte signorina che carino il tappeto si abbina alle mie scarpe salve sì sono davvero io spero che le vostre macchine fotografiche siano pronte la sua sedia signorina l'abbiamo scaldata per te ma non chiederci come ehm una matita ok iniziamo il test ehm qual era la domanda? aspetti signorina ehm ho capito fatto è nove la risposta è nove eeeh questa qui? ecco abbiamo bisogno di un'altra risposta ok grazie è il suo nome e dove va il suo nome signorina? oh giusto ho finito eccellente signorina wow è così romantico ehm non posso avere un momento per me? ok diamo un'occhiata mmm oh eccellente un otto più puoi riaverlo ora devi dare un altro voto vai fuori di qui ehi signora non creare problemi se la metti così aspetta velocizziamo il processo ora va meglio congratulazioni signorina sì sono così intelligente signorina il suo berretto non scompigliarmi i capelli signorina lei ha cervello ed è anche bella ah sono così orgogliosa congratulazioni signorina questo è fantastico sorrida ok è il momento del test dov'è la mia sedia? oh eccola non è proprio il massimo ma andrà bene lo stesso è meglio che mi prepari questo non va bene perché capitano tutte a me per fortuna c'è questa pianta qui questo dovrebbe aiutare spero non scrive andiamo forse posso graffiare la carta ah molto meglio oh oh si è incastrato la scrivania non ci voleva proprio forse posso tirare via il foglio oh che strazio immagino che la scrivania verrà con me ho bisogno di allenarmi di più ho finito il test non mi pagano abbastanza per questo fammi dare un'occhiata ben fatto otto meno ora esci di qui oh wow è un ottimo voto fiu com'è pesante wow meno male che ho studiato grande ora sono dentro al cestino che figura la via è libera signorina grazie dimenticato qualcosa va meglio non so perché lo sto facendo sono ricca non è mica così difficile fatto torno subito non di nuovo oh ehi carino che si dice vorrei dare un voto a te prenderesti un otto più penso che vomiterò oh ti piace flertare cosa abbiamo qui oh molto male ma tu ottieni il massimo dei voti come desidera signora cos'è questo mandalo indietro ti sono mancata eh aggiustalo forse questo ti farà cambiare idea è tutto per te non li voglio oh sono tanti nessun problema wow forse questo lavoro non è poi così male ehi biondino vuoi aiutarmi a spenderli? sono occupato caggio per te posso facilmente cambiare questo voto ecco qua un otto più aspetta lì ho qualcosa per te non andartene o ti manderò in punizione ecco qui eh grazie come sono andata? ora va meglio oh brava cos'è quello? sai che c'è? forse la chiamerò è difficile essere single ehi concentrati ops tutto bene signora? bene bene vediamo cosa abbiamo oh ciao ehi è già ora di votare per il ballo di fine anno conosco l'uomo giusto per il ruolo da re bene dov'è la mia penna? davvero bella sono di sicuro la scelta migliore che dire ci vediamo wow com'è bello wow cavolo quello cos'è? è il momento di votare per il ballo di fine anno? oh è messa malaccio ma dovrebbe andare bene ma dai è l'unica penna che ho ehi ho dell'inchiostro di emergenza funziona molto bene ce l'ho fatta come sono eccitata ti adoro è già mattina? ho dormito come un giro il mio collo devo aver dormito in una strana posizione cavolo ehi qualcuno mi aiuta? che posso fare per lei? il mio collo è super rigido un bel massaggio e risolviamo wow fantastico mi sento già meglio ok basta così mi sono sciolto ottimo oh ma sono io? non può essere mi serve aiuto mi serve aiuto vuole uno spazzolino signore? le propongo cinque opzioni quale scegliere? sceglierò quello in oro molto bene e ho anche il suo dentifricio preferito sorrida che sensazione fantastica quasi finito? wow wow ecco a lei grazie ecco la sua colazione wow puoi andare? non mi serve un pubblico mentre mangio che ora è? cavolo come ho dormito bene ma cosa? forse è una semplice contrattura ma che volete che sia? che ci fa il mio spazzolino lì dentro? e quelli sono capelli? che schifo forza andate via spero di avere abbastanza dentifricio è sempre meglio avere una bocca pulita ecco come temevo forza mi servono due mani dai esci da questo tubetto andiamo so che sei lì dentro lo vedo sì eccolo sapevo che ce n'era ancora un po' a chi serve lo spazzolino quando si possono usare le dita adesso risciacquiamo ehi ma l'ho pagata la bolletta oh cavolo dov'è la mia bottiglia? meglio di niente fatto perfetto perfetto dire che tutte le ragazze sono uguali è un errore grossolano tutte però hanno l'opportunità di diventare reginette reginette del ballo reginette del ballo dammi quella corona oh è così? aspetta che succede? oh no wow guarda un po' che bei vestiti e che accessori questo fa proprio per me oh mi ci potrei decisamente abituare non siamo bellissimi insieme? cosa potrei ascoltare? insomma che succede? scusa ma non trovo niente da indossare odio tutti i miei vestiti alcuni sono troppo grandi altri troppo piccoli mi fanno così brutta mi piacerebbe aiutarti e in effetti potrei inventarmi qualcosa con questo te lo mostro subito vedi queste spille? saranno i passanti per una cintura faccio passare la stringa all'interno poi la stringo per dare all'abito la larghezza giusta ti sta benissimo grazie è sempre un piacere ciao ti chiamo più tardi oh mi devo preparare mi ero quasi dimenticata oh e ora come faccio? non andrò da nessuna parte rimarrò qui con le mie patatine mi dovrò accontentare un altro bel venerdì sera a casa e un po' di tempo per sé beh tu hai le tue unghie oh un messaggio chi sarà? c'è una festa stasera ho fatto bene a sistemarmi le unghie guarda un po' no niente festa per me per favore ok va bene sì evviva cosa ci mettiamo? numero uno ok sono pronta ecco il mio outfit stai davvero bene e numero due? io? oh no sono a posto no non vuoi che ti trovi il vestito giusto? oh no non gli occhi da cucciolo sai che non riesco a resistere ok mi cambierò ecco che ne pensi? super siamo coordinate ma c'è ancora una cosa da sistemare sono orribili cosa? davvero sono brutte? orrende per fortuna ho queste pronte per te sono fatte per piedi umani preferisco andare scalza sì sì no ti prego sì sì va bene via vecchi scarponi ecco due scarpe alla moda contenta? uh huh ora cammina ok proviamoci oh oh non sta andando benissimo cado ah oh no che botta sto bene come fai a camminare con queste scarpe? mento in alto ok spalle indietro non c'è speranza aspetta cosa c'è qui? vediamo oh che carino come c'è arrivato questo? non lo voglio sapere ah non male non ne ho idea oh eccola cosa? sì proviamo ancora metti la gruccia sulle spalle dentro la camicia migliorerà la tua postura sta già funzionando ora fa un giro di prova va bene ci sei quasi oh molto bene sono una professionista ottimo forza andiamo a divertirci questo posto è pienissimo hai visto quelle scarpe? sono stupende sono senza parole non è giusto invidiose? andiamo le farò suonare la nostra canzone posso fare una richiesta? grazie cosa c'è? santo cielo guarda che spalle ehi cosa vuoi? è una gruccia va via ti proteggo io cara senti che pezzo non so cosa mangiare c'è così tanto tra cui scegliere ma papà voglio un unicorno ehi qua giù te la prenderò subito mi raccomando ecco qui buon appetito perché devo stare accanto a lei oh no non l'hai fatto cameriera grazie è tutto così povero oh questo è perfetto il suo pasto signorina ho gusti costosi delizioso non è per tutti che cosa? ehi tu qua giù i vostri soldi signorina buonissimi cosa? non ci credo sono entrambe ridicole sono così affamata ho bisogno di qualcosa da mangiare ma cosa? non c'è molto tra cui scegliere accidenti ma so cosa fare questo colore mi sta bene che la caccia abbia inizio buoni e succosi immagino che questo si assimila al fast food facilissimo che meraviglia amo i ragni cosa? oh giusto mi ero dimenticata di queste due devo trovare un nuovo lavoro cos'è stato? che bel sonno è ora di prepararsi niente acqua come farò a lavarmi? almeno posso lavarmi i denti chi ha bisogno di uno spazzolino un po' di menta fresca ok dovrà andare cosa dovrei indossare? ok questa è carina beh dovrà andare no no quello yacht è troppo piccolo alzati e risplendi oh giusto immagino che dovrò essere creativa wow sono brava ehi svegliati yuhu lo so io non sarà in grado di resistere a questo oro che sogno meraviglioso ottimo lavoro come al solito sto solo facendo il mio lavoro addio oh già mattina dov'è la mia truccatrice? pronto? ho bisogno del tuo aiuto cosa posso fare per lei? devo essere bellissima ho bisogno che tu mi trucchi ti costerà dove sono i soldi? bene prendi sul serio non esiste devo fare tutto da sola che noia ok penso che siamo pronti per cominciare ehi fingete interesse almeno la nostra prima diplomata è Cheryl ah i miei fanno adoranti ti stai diplomando solo perché tuo padre Alice ha comprato una piscina congratulazioni perché mi stai toccando che schifo non mi sto divertendo me ne vado un applauso per Cheryl e ora Ellie assicurati che il fotografo prende il mio lato migliore ecco il tuo diploma sì ce l'ho fatta assolutamente facciamo un selfie oh che carino ok scendi dal palco infine abbiamo eh sì sono così felice ecco il diploma solo mi sono ripromesso di non piangere oh vieni qui ok ricomponiti Kevin ti meriti questo Elsie wow una borsa di studio sì brava Elsie questo è il giorno più bello di sempre wow questo posto è fighissimo oh sì oh sì beh eccovi qua wow prima io fio e wow ma quanta roba anche del colorante alimentare e io questo non sembra affatto commestibile dovrò essere molto creativa almeno io ho tanto con cui lavorare e iniziamo con la torta ecco la consistenza va bene ora devo renderlo più cremoso dovrebbe davvero ammorbidirlo un po' ottimo ora sì che va bene come impasto questa roba mi aiuterà a creare ciò che voglio riesci a indovinare cosa sarà ora che è tutto verde posso iniziare a modellarlo e ora che è piatto userò degli stampi creerò delle foglie ora va molto meglio non sembrano vere ora per la parte successiva della mia creazione basta un pochino di colorante per cambiare il tutto hai capito cosa intendo devo appiattirlo e poi creerò una pallina ora la avvolgerò e poi le darò la giusta consistenza riesci a capire cos'è esatto sì è una bella arancia sembra commestibile wow penso di poter fare qualcosa di simile sarà dura toglimi il sudore sì molto meglio grazie che ne dici se la tagliamo facilissimo ma che bontà non può essere più realistico di così concentrati beh che ne pensi non posso competere per me grazie come sei carina buon appetito riconoscete queste consideratevi ispirate ma è incredibile da dove iniziamo ok posso sicuramente lavorare con queste si appiccicano subito vedi mi piace aspetta un attimo posso usare tutta questa roba è stravagante vero figo oh sì così appiccicosa penso di essermi innamorata la prima parte è fatta e ora per un tocco di colore facile ora questo è quello che io chiamo un capolavoro wow ma tu non hai nemmeno iniziato ero impegnata a mangiare tutto quanto questo funzionerà vero ecco figo un po' freddo però cosa diavolo sta facendo sembra buono ora sono io la torta ecco lascia che ti aiuti un po' di colore aiuta sempre ma cos'altro possiamo metterci certo la ciliegina sulla torta o le M&M's le piace partecipare attivamente ai progetti ehi anch'io voglio giocarci dai dammela lascia stare per favore ora guarda cosa hai fatto colpa mia ops ecco la prossima sfida dopo di te va bene wow c'è molto c'è molto da fare qui oh beh questo sembra interessante stai pensando a quello che sto pensando io tieni duro ragazza mi piace sono ispirata stupendo questo ti terrà al sicuro wow penso di poter fare di meglio tenetevi forte gambe bene e ora per un po' di gelatina arriva la pioggia ma guarda tutta questa gelatina wow oh che diavolo oh posso farlo anche io sai il mio è solo un po' diverso ti piacciono gli sprinkles vero interessante oh no sta cadendo a pezzi pura magia che schifo piano e solleva ha funzionato fammi provare e fallire parla per te ma sul serio sta peggiorando sempre di più oh ora questa torta sì che è bella la tua torta invece è proprio l'opposto uno due tre wow devo riflettere un po' è un po' triste vediamo cosa riesco a pescare cosa sta succedendo qualcuno sta frugando nella mia spazzatura non è giusto è mia ehi oh sì mi piace come si fa a dire che non si possono usare beh vanno bene anche sul verde non credi gnam certo so esattamente cosa fare vuoi pagare per vincere ci sto ora sono ricco questo è il momento che stavo aspettando è tutta tua niente come guardare un vero professionista a fare la sua magia e questa volta verrà eccezionale dopo tutto questi ingredienti sono fuori dalla norma oh sì ma non abbiamo ancora finito i macaron stanno sempre bene su tutto questa sì che è una torta non di nuovo stavo per mangiare niente di meglio di un buon sottaceto tu vai qui e me ne sono rimasti ancora tanti e pensavi che avessi finito ho ancora molto da fare ora abbiamo la forma ed è il momento dei dettagli ecco mancano ancora poche righe riesci a capire che cos'è? solo un vero professionista può riuscirci adesso devo fare piano questa roba è così facile da lavorare puoi creare qualsiasi cosa dunque eccoci ora per gli occhi bellissimi ora per i più esigenti dell'oro vero vi piace? non posso competere ehi del resto io ho pagato sì posso aggiungere anche queste ossa hanno un buon odore vero? mai sprecare gli ingredienti quasi dimenticavo questi i vermi piccante a chi piace aggiungiamoci del tabasco e ora ho quasi finito ma manca sì è proprio bloccato oh non credo proprio signorina questa scarpa è mia oh la mia torta non posso crederci ma ehi almeno ho finito una torta astratta mi sto per sentire male la tua sembra buona oh almeno ci hai provato tesoro e adesso dobbiamo aprirli sono stanca ehi che buono ed è pronta da mangiare oh wow anche la mia sembra buona questi dolci ce li siamo guadagnati cosa sta succedendo? le mie mani siamo tornate niente più cucina tesoro bene sei qui ho qualcosa per te mamma che sta succedendo? spero che ti piaccia è un biglietto per il parco divertimenti non può essere wow mamma te lo meriti Sofia non vedo l'ora wow è pazzesco ok devo chiedere che sta succedendo? stai spaventando gli altri clienti è tutto ok ho un biglietto ok per favore si sta divertendo la prego chiuda un occhio avete cinque minuti ma non vomitare che giornata è il tempo perfetto per cavalcare ehi tu sei pronto? non muoverti andiamo ora non ti muovere proprio come quando ci siamo esercitati questo è il modo migliore per trascorrere la giornata mi sento così rilassata wow bravo cavallo bravo dov'è lo staff? ha chiamato? ah stavi facendo una pausa cavalcare mette tanta fame immagino ho qualcosa proprio qui ops spero che non se ne sia accorta ecco a lei signorina finalmente che dovrei prendere? prenderò la bibita gassata ora vai stai spaventando il cavallo certo signorina ci può essere qualcosa di meglio di questo? forse se si facesse qualche foto ci sono signorina è perfetta mi assicurerò di prendere il suo lato buono cosa? ogni mio lato è il mio lato buono è da un po' che lavoro su queste pose si vede bravissima e provi ad abbracciare il cavallo è un talento naturale ok ora basta pubblichiamole fantastico i paparazzi non mi lasciano mai stare una ragazza non può semplicemente andare nello spazio come una persona normale? che strazio sono così felice che papà mi abbia comprato questo nuovo razzo l'ultimo era così antiquato non aveva neanche uno spa dunque come si guida questo cosa? questo è davvero forte è così tranquillo e pacifico ma divertiamoci un po' come faccio a fermarmi? sto iniziando a prendere più confidenza è bello avere un po' di tempo per me posso persino lavorare sui miei passi di danza sto cominciando ad avere tutte le vertigini e lo adoro potrei farlo tutto il giorno tempo di selfie i miei amici saranno così gelosi dovrei prendere un peloso alieno sì ho un'idea questo è il modo migliore per lavarsi i denti il mio dentista sarebbe così orgoglioso devo aggiornare il mio feed con nuovi selfie sì basta scuola diamo un'occhiata ai miei social adesso wow che bel laptop che ha io invece ho questo catorcio dono di mio padre il re neanche funziona più deve essere dura essere una principessa povera troverò ad arrangiarmi niente da fare ok forse questo fa il caso mio basta aspetta prendo la cornice ha proprio il sostegno che mi serve ehi guarda ho fatto perfettamente wow spero che la povertà non sia contagiosa oh grazie che bel regalo ma che roba è oh è che pensavo tieni prendila tu adesso sparisci non voglio più vederti vai puoi tenerti la torta oh va bene grazie wow questa torta è farcita di soldi ancora e ancora non ci posso credere ma cosa ne voglio io quei soldi sono ricca che meraviglia se ne è andata ma c'è un'altra torta su dai troverò dei soldi anche qui nulla e ho anche le mani sporche la mia corona da ginnastica grazie serve una corona per ogni occasione giusto grazie adesso vai che gran fatica vai alla grande principessa saltare la corda è un ottimo cardio su e giù gli squat sono ottimi per gambe addominali devo essere in forma sul trono fammi vento oh principessa dovete bere mi sento così bene diamoci da fare questi secchi sì che sono pesanti devo solo arrivare fino a lì magari avessi uno sgabello oh ragazzi oggi la fatica si fa sentire quante immondizie da raccogliere oh che allenamento ma guardate che muscoli tonici prontissima per un nuovo giorno di scuola ecco il quaderno ciao pronta per la lezione? le mie cose prego adesso sì sono pronta per le lezioni fuori di qui adesso non mi servi più mmm qualcosa non va oh certo è l'ora di matematica mi serve questo qui allora batteria scarica a penne e quaderni non servono batterie sì beh ha proprio ragione e adesso che faccio? tieni ti presto un foglio di carta oh grazie tante è una matita e allora io ho detto vuoi comprarmi un altro pony ehi guarda che festa oggi qui a scuola bello non c'è festa senza principesse questo vestito non va bene però devo mettermi qualcosa di meglio adesso sì che sono vestita come una principessa wow che meraviglia sarà meglio che mi cambi anch'io che strano non funziona eppure ho fatto come lei e quella lattina dove andrà? sul pavimento meglio raccoglierla ma sì può funzionare dai eccoci questo è il vestito da festa di una vera principessa guardate che schianto come va? ma che oh mio dio wow che abito interessante che hai oh grazie l'ho fatto io allora che ne dici di questa festa? ferma lì il film non è mica gratis sai? certo solo un attimo mi prendi in giro? non accettiamo spiccioli qui deve esserci qualcosa che posso fare forse la mia corona? sì come no una corona di carta devi pagare con soldi veri che spasso non ci credo lo ha fatto davvero ho il mal di pancia dalle risate alt ingresso a pagamento qui che noia i soldi tieni ok ma che cosa c'è qui dentro? non ci credo lingotti d'oro a quanto pare la sala è tutta per lei stasera questi invece vengono a casa via con me popcorn prego che bontà posso poggiare i piedi e rilassarmi anche ok sono quasi pronta questo colore mi sta proprio bene non devo scordare i diamanti e il mascara naturalmente il profumo creato apposta per me e adesso l'abito anche la corona grazie perfetto e adesso vado a dormire sogni d'oro principessa avanti siamo così in ritardo lo so lo so oh la mia collana mi piace troppo mi sta benissimo aspetta ci penso io ok ma sono qui se hai bisogno di aiuto penso di sapere come mettere una collana dammi solo un momento oh wow il fermaglio è così piccolo devo solo tirare un pochino la catenina mi sta attaccando so io come risolvere questo problema no ormai c'è di mezzo il mio orgoglio posso farcela perché mi sta facendo questo è doloroso persino da guardare ma perché non li fanno più semplici avanti aspetta aspetta no ok ricordati delle tue lezioni di yoga respira trova un momento zen pensa al tuo posto felice va meglio proviamo di nuovo ecco qui buona fortuna ce l'ho fatta sì ci sono riuscita vai ragazza ok ora devo metterla sicuramente sarà più facile solo un minuto no wow che botta permettimi ok vai avanti te l'avevo detto che mi stava bene ok penso di essere pronta ho così tanto lavoro da fare invierà prima queste email devo concentrarmi sul mio lavoro come si scrive con le unghie lunghe aspetta devo scrivere qualcosa se solo potessi aprire il mio taccuino finalmente bene e ora non ti muovere cosa stai facendo? sto solo prendendo degli appunti o almeno ci sto provando ah ho lasciato cadere la penna scriverò sul mio laptop aspetta ma non ci siamo aspetta ma cosa è successo? sì tra poco ti arriverà il documento smettila perché stai facendo tutto questo? no hai inviato una foto alla mia cotta a nulla io odio la tecnologia come posso fare? è davvero imbarazzante la mia vita è rovinata proverò a non pensarci devo fare una chiamata questo mi distrarrà oh per favore non cadere è così ingiusto come ci riesce? guardala ehi amica dovremmo pranzare insieme non sono così occupata pronto? sì vorrei prenotare una manicure devo solo firmare dei documenti o fatto? lo fa sembrare così facile ok te lo spedirò subito se lei ci riesce anche io posso riuscirci forza unghie non deludetemi facciamolo posso fare anch'io il multitasking aspetta Sky è così strana lo sto facendo penso di aver fatto un errore penso che dovrei fare le cose con più calma non so nemmeno come ho fatto sì dovresti vederla è ridicola comunque ho del lavoro da fare questa crema idratante è fantastica le mie mani sono così morbide oh mi piace ma io ho la mia è la crema migliore che il denaro possa comprare ce l'hanno tutte le celebrità se la prendo direttamente con le unghie non mentirò mi fa abbastanza schifo dovrebbe andare sulla tua pelle lo so guarda qui usa la parte superiore dell'unghia per prenderne un po' è piuttosto semplice adoro i colori di questa tavolozza piano senza movimenti improvvisi crede di essere così intelligente in realtà è abbastanza facile aia l'unghia mi ha appena graffiato non lascerò che questo mi fermi aia ma cosa stai facendo? non posso rischiare userò questo pennello ci sono ora va meglio ed è meno pericoloso sapevo che sarebbe successo ci è voluto un po' ma sono riuscita a truccarmi quasi fatto oh oh non finirà bene sii coraggiosa non mostrare paura perché ho pensato che le unghie lunghe sarebbero state una buona idea ok non voglio problemi capito? posso farcela forse se solo no proverò in questo modo cosa farei senza le ciglia finte? ecco così facile ora per l'altra sto troppo bene non dire una parola io desidero solo la felicità oh mi avete preso un buono posso avere qualsiasi cosa dalla discarica grazie siete i migliori questo posto è una miniera d'oro ready no io ho un buono puoi andare ehi che dovrei prendere? quel computer sembra fighissimo bingo lo voglio subito testare devo fare il login lo faccio? la realtà virtuale è il top questa città è epica e anche questo vestito sì questo è tutto mio fico e anche economico adesso mi serve un bel passaggio non costerà così tanto vero? non male come faccio senza un grande yacht? sì un regalo altri soldi piovono dal cielo sono così annoiato oggi ma forse posso sfuggire a tutto questo per un po' ehi questo posto è fantastico sono ricco aspetta un attimo non è quello che avevo in mente queste pareti sono così impolverate ok ora va meglio cos'altro deve essere pulito? lavare i piatti mi rilassa e qualcuno deve pur farlo giusto? ah sì bene perché fermarsi adesso? oh fiorellini ne avete sete eh? basta così wow è per me cercherò di non spendere tutto in una volta peccato sì sto vincendo e adesso la grande mossa quasi sta succedendo internet lento è proprio quando non ci voleva ma forse posso aggiustarlo vediamo qualcuno è in casa? ho una chiamata oh certo pronto? chi è? ciao mi sistemi internet eh credo ecco qui funziona è ora di ricominciare a giocare pronto? sono ancora qui sì vinco sempre chissà cosa ci sarà qui sotto che ne dite di fare colazione? sto morendo di fame oh uova crude eh? di solito qualcuno le cucina per me eh pio non posso mica ricordarmi le ricette beh puzza terribilmente un libro di cucina potrebbe tornarmi utile ahà penso di potercela fare e crack oh è stato più disordinato di quanto mi aspettassi colpa mia sarà meglio se qualcuno lo faccia per me come quel tizio laggiù ti piace quello che vedi signore? oh ah certo queste uova proprio qui eh torno subito ora va meglio uova fresche per te oh vediamo che cosa? è così leggero mhm non c'è il tuorlo qualcuno l'ha tolto o cosa? che cosa? pensi che l'ho fatto io? aspetta mi è venuta un'idea ah sì? un'idea? mi serve solo qualcosa per aiutarmi e guarda cosa so fare basta mettere la gelatina nell'acqua una volta messa in tutte le ciotole bisogna mescolare e aggiungere un po' di colore puoi creare tonalità diverse per ogni ciotola assicurati solo di mescolare per bene grande ora userò una siringa per risucchiare il colore perfetto che cosa? e nell'uovo va ecco adesso metti le uova ripiene in frigo chi vuole dei soldi? sono nato per fare questo? guarda e impara ora che il bicchiere è ricoperto di plastica ci romperò dentro l'uovo vedi come non tocca il bicchiere? ora solleverò il cellophane in questo modo e lo toglierò dal bicchiere ruoterò il cellophane in modo che non si rovesci quindi userò un fermacarte per tenerlo chiuso perfetto trasferirò ora il sacchetto in una pentola d'acqua bollente sembra che sia quasi pronto una volta messo su un piatto taglierò il gambo di plastica e aggiungerò il mio condimento preferito tagliamolo adesso ah non è cotto alla perfezione chissà se ci sarà qualcosa di buono qui dentro bingo wow guarda qui le uova più colorate che io abbia mai visto sì dai un'occhiata a queste fantastiche uova che cosa? sono le stesse uova salve quindi? non preoccuparti ci penso io wow entrambi i piatti sono molto interessanti wow che notizia meravigliosa e come ricompensa? ha un sapore fantastico prima io è un melograno è un frutto super elegante vero? elegante se lo dici tu un'anguria gigante cosa dovrei farci? che cosa? non c'è più aspetta un attimo ehi signorine è ora di fare il pieno di succo che ne dite? non credo che qui diventerà più fresco quindi dateci dentro ragazze verremmo cronometrate che guerra sia oh sì premiamo allora com'è difficile da tagliare meno male che abbiamo dei coltelli affilati questo è certo e adesso? ma dentro questo caso ci sarà del succo io ho uno strumento molto utile qui e ora ci darò dentro funziona ti faccio vedere io devo lavorare più velocemente dai devo creare più succo possibile oh non funziona a meno che devo solo togliere tutti i semi vedi? wow che buon odore qui dentro questo perché sto creando tanto succo devo mantenerlo fresco così dovrebbe andare non ho ancora finito una volta che tutti i semi sono all'interno della siringa allora sì che inizia il divertimento devo solo aggiungere un piccolo beccuccio devo sbrigarmi se voglio vincere ecco ok versiamo il succo in questi bicchieri pronte? beh io sì sono pronta anche io accidenti quanta sete aspetta state bevendo tutto il mio succo così dolce più è fatto è rimasta solo una goccia abbiamo bevuto tutto quanto oh immagino che avete vinto entrambe anche no eh chi se ne frega va bene questa volta vado io per prima ma che delusione non ho mai visto una verdura più triste pensi che troverai di meglio? beh direi di no ma penso di poterci fare qualcosa ti sfido a duello oh che bello no fatela finita ok? non c'è tempo per giocare perché adesso dovete fare il sushi è il mio preferito anche il mio tieni ho un ordine da fare perfetto torno subito devo iniziare a tagliare ah non ha funzionato non so proprio come fare sei davvero strana mia ma in questo modo avrò tempo per prepararmi dopo tutto il sushi è tutto incentrato sulla presentazione sano e fresco uh salato ehi come hai fatto a fare tutto quello? cosa stai facendo ora? sto solo affettando una volta tolte le estremità posso eliminare la parte centrale sta venendo bene sta venendo molto bene che strano e poi infilo dentro l'hot dog vedi? ci sta benissimo uh e si taglia anche facilmente manca una sola cosa da fare mangiare il tutto ahah non fare caso a me uh e? oh le cose dorate hanno un sapore migliore wow e anche l'aspetto è migliore vero? la cena più sfiziosa di sempre ti piace? devo dire che sono molto impressionato ma chi di voi vince? entrambi sono sicuramente unici allora dovrei fare una prova di assaggio questo ha un odore strano non sono sicuro e questo? sì quale? wow e vince l'oro ben fatto le papille gustative non mentono mai uh eccitante noodles e io? cibo per poveri sta già mangiando il suo piatto non credo proprio perché è ancora del lavoro da fare ora va meglio eh eh e io mi ammastichi almeno oh ora fammi pensare oh ma certo cosa sta facendo? lo facevo sempre a casa mia basta mettere i noodles sulla piastra calda insolito vero? ma fidati verranno benissimo bisogna metterceli tutti e una volta fatto basta chiudere il coperchio e aspetta che si cuociano e prima che tu te ne accorga hai un tortino croccante di noodles occhio è caldo e se rimane intatto una volta sollevato allora è venuto bene wow è davvero figo vero? che diavolo è? posso sicuramente fare qualcosa di meglio ovviamente il mio ingrediente segreto? a tutti piace anche questo topping guarda come brilla è come il capodanno in un piatto e per finire la migliore amica di una ragazza ovviamente e ora facciamo piovere diamanti che spettacolo sembrano buoni non vuoi provare il mio? è croccante non credo che il suo piatto possa vincere e basta guardare questo piatto questa è dura ma penso di dover scegliere tutti e due oh sì il mio costa molto di più ma fa niente il drago alzò la testa ed emise un ruggito onnipotente e poi? mamma perché hai smesso di leggere? continua scusa tesoro credo di aver letto tutto ma ho bisogno della mia favola della buonanotte non è giusto ci deve essere qualcosa che posso fare ma cosa? aspetta ho un'idea inizierò disegnando dei cuori d'amore sul mio dito quindi ci aggiungerò un naso e un bel sorriso riempirò i cuori questi sono gli occhi adesso disegno una seconda faccia sull'altro dito chi ha bisogno di un libro? quando posso creare una storia tutta mia? penso di essere pronta e ora dello spettacolo ehm... Sofia? Sofia? ah? mamma? ciao sono un bel principe wow sembra di essere a teatro adoro una bella storia d'amore sai? ah ho tanto sonno e vissero tutti felici e contenti fine sta dormendo? ha funzionato la mia prima produzione teatrale è stata un successo ed è meglio che la lasci dormire oh oh per favore non svegliarti cosa? oh oh cos'è stato? ci sono quasi oh ma andiamo è ora di andare a letto lasci che la rimbocchi è pronta per la sua favola della buonanotte? romeo romeo dove sei? che si dice? voglio dire um wow è meraviglioso vorrei che mio marito fosse così romantico che noia dov'è l'azione? boh che cos'è questo? non è mai successo prima le piacciono i film d'azione oh va bene ci siamo wow un pubblico difficile diamoci da fare prendi questo continua cosa ne pensa Annie? è la cosa peggiore che abbia mai visto boh sul serio? eppure io ho una formazione classica? che ne dite di un musical? metteteci un po' di impegno ok ecco qui cialalalala cia cia cialala mi sta avvenendo sonno ma a causa della noia oh ehi sta dormendo ok potete anche smettere le vostre pessime abilità l'hanno fatta addormentare grazie almeno credo devo parlare col mio agente vi darò un piccolo extra per il disturbo ve lo siete guadagnato cia cing è un vero piacere fare affari con lei ci vediamo oh non riesco a dormire non riesco a mettermi a mio agio e la luna è così luminosa io sono così stanca è frustrante ci deve essere qualcosa che posso fare mi devo fare aiutare sì da un nerd pronto Sunny? davvero? no non è un problema certo ora è il mio momento di brillare fortunatamente ho un programma proprio per questa situazione tutti gli altri nerd ridono di me ma ride bene chi ride per ultimo devo spostare il satellite il governo si infurirà ma insomma è per Sunny quindi capiranno adesso la luna è nell'oscurità va molto meglio riuscirò a dormire adesso sogni d'oro per tutti troppo facile la prossima volta fammi fare qualcosa di più difficile e ora mi sognerò Sunny saremo una coppia stupenda la scuola è così noiosa farò un po' di acquisti online wow che carina è chiaro che Sunny stia parlando di me sono più che carina sono contenta di aver trovato questo cartone oh Sunny il mio cuore batte ogni volta che mi sei vicina prendi questo come pegno del mio amore wow wow un puppet d'oro figo aspetta guarda questo è enorme lo adoro oh è così fortunata i ragazzi a me non portano mai regali vorresti un bel puppet ma per favore che ci vuole vi mostrerò io un vero puppet preparatevi ad essere stupite che ne pensate eh? quelli sono diamanti è incredibile non può essere io voglio solo il meglio è stato fatto apposta per me è incredibile ho un'idea ho bisogno della mia vecchia gomma da masticare non ha neanche perso il suo sapore buonissima ora faccio una bella bolla ma non deve scoppiare e fin qui tutto bene l'attaccherò al cartone mi serviranno molte più bolle sai che c'è? mi sto divertendo dovrebbero bastare il mio puppet personale mi piace wow bambola i tuoi capelli sono fantastici sei così bella aspetta ora vi farò vedere le ultime novità nella tecnologia delle bambole l'intelligenza artificiale altamente interattiva significa che avrete un'amica per la vita papà la voglio ti prego sono così emozionata non vedo l'ora di vederla sarà fantastica accidenti è anche meglio di quanto immaginassi attivazione procedura di avviamento ciao sono un robot bambola 3000 è fighissima forza giochiamo guarda che bei capelli che hai i miei capelli sono fatti di un polimero sintetico oh oh non va affatto bene per fortuna sei un robot e non hai emozioni avanti prova a prendermi ma devi essere veloce protocollo di inseguimento e cattura avviato non posso muovermi calcolo percorso alternativo aiuto ho quasi finito wow sei favolosa ah se lo dici tu cosa ne pensi? ah questo vestito è carino cosa altro? oh ci serve questa certo e metterò anche questo scelta eccellente facciamolo continua così devi solo copiarmi spazzola via bene robobambola il robot vecchia scuola guarda quanti mi piace ti senti fortunata? sono nata fortunata wow la situazione è seria piano non mostrare paura oh meno male vediamo è troppo facile tocca a te comincio a sentire la pressione sta diventando caldo o cosa? posso farcela un movimento rapido ecco qui no avrai più fortuna la prossima volta perdente è stato un incidente conosci le regole? no tutto tranne quello dammi il tuo beige ma ho solo questo è ora di apportare alcune modifiche qui sono io al comando niente più compiti e adesso? pensavo che sarebbe stato più divertente oh lo so pronto? vieni subito nel mio ufficio sì proprio ora sì? si tratta di quel testo ho preso un 4 cambialo o sei licenziata certo deve essere un errore hai preso un 8 essere presi dai suoi vantaggi potrei abituarmi a tutto questo ciao Sofia c'è qualcosa che puzza qui non guardare me io ero in lavatrice deve essere Sofia vi dispiace? dovete essere amici oh un bel fiore grazie mi dispiace oh che schifo smettetela Sofia? cosa fai? oh niente mamma fai finta di non aver visto imbarazzante i ragazzi di oggi fortunatamente ho un burattino tutto mio allora cosa giochiamo? guarda cosa ho io delle caramelle le voglio facciamolo eh sì ok che cosa perché mi fai questo? immagino che dovrò aspettare ancora lento che ore sono? 2% oh falso allarme questo avatar è così noioso questo vestitino non va affatto bene quale sarà mai? eccolo pronto? che ne pensi di venire adesso? problemi di moda? ok da qui adesso possiamo metterci al lavoro cominciamo dagli accessori ehi smettila di toccarmi i capelli è per il mio avatar non so proprio a cosa stavi pensando staresti zitta o no? oh che tipa vedi aiuta lei fammi vedere che posso fare qui potrebbe funzionare sì audace direi è troppo? forse ha bisogno di un'arma da abbinarci? non proprio so cosa fare sì questa è perfetta ma bellissima vuoi giocare? ho capito cosa manca a questo avatar? non ci sono molte opzioni qui anche lui è stanco devo fare una pausa ehi ciao tu vieni qui io? ecco con cosa sto lavorando mi serve un piccolo aiuto ti piace questo look? ah ok il martelletto va bene giusto? forse no e questa padella è potente sì esatto mi hai aiutato tantissimo puoi andare combatti dai l'ho così preso aspetta un attimo sono già rotte oh che peccato pronto? delle cuffie nuove per favore il nuovo modello diamantato signorina oh ma che belle mi piacciono tantissimo oh che suono coinvolgente oh ottimo lavoro ok così va bene eh sì molto meglio cosa? non sento niente oh questo non doveva succedere non funzionano più ma non tutte le speranze sono perdute bingo sono intelligente o cosa? sì ed ecco delle cuffiette bicchieri pronto? sì diamoci dentro occhio a quella navicella spaziale cosa? stupidi alieni non credo proprio penso di aver esagerato che male mi serve aiuto chi chiamo? il massaggiatore? ho bisogno di aiuto tipo adesso hai bisogno della mia magia curativa? è il mio dito troppo cliccare ora ti aiuto io ecco qui vieni è piacevole vero? questo dito tornerà a cliccare in pochissimo tempo meglio? oh sì dicono che ho il tocco magico adesso sembra che sia tutto a posto grazie mille adesso clicca quanto vuoi forza taci dentro sì funziona sì prendi questo oddio che dolore spero non si sia rotto so cosa fare è ora di usare qualcos'altro possono cliccare anche loro vedi? nessun cranto mi ralletterà figo non male queste macchine sono pazzesche guarda come sprezzano scommetto che potrei guidarne una sì ho tutta l'attrezzatura che mi serve e guarda che casco ok mettiamoci alla guida ci vediamo è più difficile di quanto pensassi ce la puoi fare te l'avevo detto che potevo farlo questa strada è sicuramente ventosa da dove è arrivato quel tizio? no ci sono l'ho quasi rotto ok ho trovato la soluzione adesso posso guidare un vero volante bim bim fate strada gente ehi chi ha preso il sedile del water? Jared oh devo andare grazie mille siete un pubblico stupendo vi amo tutti devo firmare tutte queste foto? essere una superstar è stressante non ce la posso fare mi ci vorrà una vita ci vorrebbe un modo più rapido oh mamma che stai facendo? mamma sta cercando di lavorare piccola mia non ci sono solo jet privati e vacanze di lusso devo aiutare la mamma so come tirarle su il morale decorerò le sue fotografie le farò sapere quanto è speciale per me Mickey che stai facendo? ti dimostro il mio amore oh piccola mia è molto carino ma ho un'idea migliore perché non decori anche queste? wow davvero? grazie mamma la mamma intanto si rilassa un po' come è divertente lo farai tutto il giorno non capisco perché mamma si lamentava ho quasi finito ehi cos'è stato? spero che sia la casa di Gina questa è la quarta casa che visito ah ah bingo eh? ehi bimba vuoi vedere i miei disegni? ma certo è la mia mamma la figlia di Gina che autografa le sue foto? che scoop vuoi un autografo anche tu? wow lo scoop più facile di sempre grazie piccola ecco a te te li sei meritati wow sono un mucchio di soldi grazie misterioso sconosciuto chiamami se hai qualche altro gossip mamma guarda qui soldi il modo migliore per svegliarsi wow guarda quanti autografi e quanti soldi piccola mia sei fantastica ho altre foto pronte per te grazie mamma adora la mia arte sono pronta ok iniziamo oh sto per diventare una star ciao ragazzi pronti per una botta di energia? mickey sarà la mia assistente eccomi qui ciao a tutti adora essere al centro dell'attenzione oggi pancake abbiamo tutti gli ingredienti iniziamo versando la farina in una ciotola cucinare ha un effetto rilassante wow quanta polvere non vedo nulla così va meglio iniziamo a mescolare così anche io mamma guarda come te stavo per dimenticare gli altri ingredienti torno subito ho un'idea ma è un segreto farò uno scherzo a mamma aggiungo del sapone nell'impasto dei pancake ma non diteglielo ho preso lo sciroppo ecco a te mickey lo aggiungiamo alla farina non sospetta nulla aspetta devo prendere una cosa l'aiuto un po' lo aggiungo alla sua ciotola non ne servirà molto avrà comunque un ottimo sapore sono tornata con un ingrediente speciale cos'hai lì? niente oh devo prendere la frutta rossa è la mia occasione che stai facendo? sento odore di scherzo e di qualcos'altro oh è così? wow sembrano così buoni aggiungiamoli all'impasto adoro le fragole ho un'idea ci serve della frutta secca e un peperoncino piccante mettiamo la frutta nella ciotola facile vero? oddio non si accorta di nulla com'è divertente spero che le piacciono i topi ecco che arriva un topo odio i topi aiuto che schifo non mi sembrano amante degli animali i nostri pancake sono pronti e sembrano deliziosi che profumino mamma che mi dici del sapore? c'è qualcosa che non va attenta il mio cappello cosa? che è successo? forse non sei brava come pensavi wow mamma siamo diventate virali guarda quanto siamo popolari wow ci adorano mettete un like e iscrivetevi al canale ci vediamo meglio prepararmi cavolo oggi i miei capelli non ne vogliono proprio sapere c'è nessuno mi serve aiuto serve aiuto Liam che succede? ho i capelli fuori controllo non ti preoccupare ci sono io allaccia le cinture nuova acconciatura in arrivo ecco fatto davvero? non ne sono molto sicuro troppo gel nessun problema provo a fare qualcos'altro abbi fiducia ecco fatto ti piacciono? non è quello che speravo beh potrei provare qualcosa di nuovo mi serviranno un po' di questi sì verrà fuori un capolavoro mettiti comodo in questo modo metterò in risalto il tuo viso interessante mi piace ma non ho ancora finito questo renderà il tutto più vivace sarà una figata fidati vanno proprio lungo l'attaccatura dei capelli wow questo è decisamente nuovo mi piace ecco a te per il tuo aiuto piacere mio sono proprio un bel tipo adoro il giorno delle pulizie mi aiuta a combattere lo stress e ho molto tempo per pensare una bella pulita anche ai pavimenti il modo migliore per meditare e con questa mi riesce benissimo ecco fatto oh no i miei capelli sono fuori controllo non ho tempo di rimetterli in piega o forse sì proviamo prima però mi serve un elastico ecco ora sotto con i capelli forza che bello e non ho neanche dovuto alzare un dito proprio quello che volevo attenzione mondo sto arrivando ehi che stai facendo sto provando un nuovo look ma non ho il rossetto mi dispiace tesoro non ho soldi ma ho una penna rossa forse puoi usare questa aspetta ho un'idea migliore devo saccheggiare il frigorifero voglio prendere alcune cose oddio mi sa proprio che dobbiamo fare la spesa questo è quello di cui ho bisogno sai potrebbe funzionare sono la maga del make up mi hai preparato uno snack aspetta è per le tue labbra ok proviamo funziona niente male e ora proverò la barbabietola l'astrofino così esce il succo e poi l'astrofino sulle mie guance se a chi serve il blush madre natura sarebbe fiera chi sapeva che le verdure potevano farti bene ehi è mio non mangiarti i miei trucchi mi sento malissimo odio stare così ho finito i fazzoletti ottimo proprio di questo avevo bisogno e ciù devo fare tutto io so come sistemare mettiti questi assorbenti interni nel naso già stai meglio grazie tesoro non sono durati molto non ti preoccupare ti tolgo le caccole ferma non funziona e ora che facciamo? ho bisogno di qualcosa per pulirmi il naso ma a cosa? potrei usare i soldi sono solo 20 aspetta mi è venuta un'idea devo solo piegare i soldi così e poi li metto sopra al naso che dovrebbero fare? e ciù ehi ha preso tutto il moccolo come pensavo i soldi risolvono tutto ah mi sento già meglio e ciù oh il peggiore e ciù mi serve un altro fazzoletto oh li ho usati tutti Liam mi servono i fazzoletti non ne abbiamo ma ci penso io puoi usare il mio giornale oh ma grazie e ora mi dedico al mio business non avrei dovuto mangiare quel burrito spazzatura come si può avere tutto questo muco? oh no ho usato tutti i giornali Liam altri fazzoletti ok chissà puoi usare la carta igienica ma ho un'idea non ti muovere ecco sempre a portata di mano wow sei geniale ottimo intelligente e bell'aspetto ho tutto aspetta mi serve della carta igienica serviti pure e ricordati di scaricare avrò pure il raffreddore ma gli odori li sento tesoro sei qui ho dei vestiti da sposa magnifici per te vatti dalle mie sapienti mani fatti dare un'occhiata beh ho ciò che fa il caso tuo ti staranno benissimo wow sono magnifici non vedo l'ora di provarli ah non so non so non mi piacciono cos'altro hai? ma... e questo? è elegante come te lo so bellissimo no davvero? ok ho qualcos'altro ci ho lavorato un bel po' sono fiero direi che va bene ma non rientra nel mio budget no via questa cosa non è mai successa rimane solo un vestito cerca qualcosa di costoso eh faccio una piccola modifica al cartellino mettiamoci in un uno in più penso questo vestito ti piaccia che ne pensi? ehm aspetta un attimo quant'è? fammi vedere mi piace lo prendo tu sei un genio oh grazie ci vediamo come mi sta questo vestito? non so non mi sta benissimo non ha nemmeno il velo forse potrei usare la carta igienica com'è? non mi piace la busta della spazzatura aggiungerà un po' di colore ma che sto facendo? via questa roba ehi sono a casa stai bene tesoro guarda cosa wow ehi grace guarda ehi grace wow e andiamo ma insomma basta oh ehi finalmente guarda cosa siediti e ammira questo tatuaggio cosa? vuoi un tatuaggio? sì lascia che me ne occupi io ok mettiamoci al lavoro fico lo vorrei qui molto bene ora mettiti comoda emily ma quello è un ago e come pensavi di fare? allora niente tatuaggio ci deve essere un altro modo certo che sì torno subito du 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 ci sono quasi avrei dovuto portare dell'acqua ce l'ho fatta ehi signor unicorno ok mi serve qualcosa di più delicato ok che ne dici di questi? sì grazie mille alla prossima una bella passeggiata così mi tengo in forma ci sono quasi che passeggiata iniziamo senza aghi sarà completamente indolore assolutamente sì sono pronta con lo stencil non si sente alcun dolore versiamo la colla sulla parte selezionata e usiamo un pennellino per spargerla a questo punto dovremo versare i brillantini wow copriamo bene tutta l'area poi rimuoviamo lo stencil bello vero? wow è davvero brillante lo adoro te l'avevo detto ora tocca a te sì no forza useremo il tuo colore preferito ora sì che ci siamo non sono bellissimi è tutto senza aghi e senza soffrire che video mi scusi prego dove ero rimasto? ah sì questa scena è divertentissima il protagonista è eccezionale sì speriamo non ci sia fila signore sembra a posto con il dress code ok ci vediamo dentro un momento cosa abbiamo qui? dolci? non ha visto il cartello? cosa? se ne vada che sfigato bene pensa di essere un duro eh? come se non potessi gustarmi uno snack anche se ho un'idea grandiosa questo marsupio mi aiuterà è della misura giusta un porta snack segreto super ecco la magia oh signor butta fuori ancora lei altri dolci? per fortuna non mi pare entri pure bacioni che tipa sì meglio tornare al video wow è Emily quella oh arrivo e ho con me degli snack guarda un po' ecco il mio nascondiglio tada visto? sì e ne ho due fantastico è sempre il momento giusto per il cioccolato che buono se fossi giga ricco che cosa compreresti? faccelo sapere nei commenti qui sotto ricordati di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per altri video divertenti come questo